in una delle arcate del chiostro vi è la suite che da questo prende il nome la sua volta a vela un tempo donava frescura e riparo alle religiose durante le loro meditazioni oggi è una camera tranquilla a facciata con un balconcino su un cortile interno le originali decorazioni ottocentesche con i loro delicati colori contribuiscono a donare all'ambiente la sua atmosfera unica